Buongiorno a tutti, volevo innanzitutto ringraziare la Proloco di Airola e il suo Presidente, il Dottor Bicciano, la Dottoressa dello Iatomo del Comune di Montesarsio e tutti i dirigenti scolastici delle scuole interessate della zona di Benevento e dei comuni di Micropi. Sono molto contento di aver accettato il vostro invito di venire e spero di incontrarvi tutti molto presto, voi tutti sapete che l'attività è stata programmata prossimamente ma io ho ritenuto che in considerazione degli eventi che ci sono stati a Benevento nella zona sicuramente sarebbe stato molto più opportuno spostarla di qualche giorno e penso non sarà un grande problema anche se capisco che i motivi organizzativi ce ne sono sempre, i problemi organizzativi ce ne sono sempre ma per poterla fare parlare di spazio con uno stato d'animo molto più rilassato soprattutto con gli studenti e con tutte le persone che amano il volo e vedere la terra fuori dalla terra fuori dall'orbita terrestre e dallo start che è una cosa molto bella e quindi spero di incontrarvi tutti molto presto e allora al 9 e al 10 che sono i due giorni in cui l'attività è stata riprogrammata. Ciao a tutti!